Un'azienda deve avere a livello di marketing una situazione del genere. Ipotizzate la solita scala dei valori. Fin qui ci siamo? Siamo tutti allineati, giusto? Valore, prezzo. Quando progettate su un fazzoletto di carta, perché le cose devono essere semplici, e state parlando con il vostro socio, con il vostro partner, con il vostro staff, cose semplici, nella scala dei valori, il primo errore che fanno tutti quanti è partire direttamente a qua. In realtà, il primo prodotto che volete mettere, lo dovete mettere qui. Il primo, diciamo così, la prima call to action. Poi iniziate a salire su tutti i prodotti eventualmente di, che ne so, magari se questo è un front-end, questo diventa un middle-end e questo vuol dire un back-end. Non parlare inglese, parli italiano, cosa vuol dire? Un prodotto di, un primo prodotto, un prodotto servizio chiaramente, o anche una prima offerta, una seconda tipologia d'offerta, una terza tipologia d'offerta. Ok. E fin qui ci siamo. Questo è ciò che offro. Io ho deciso qual è la mia offerta. Il cosa. Vedete come un po' tutto torna, oh? Mi state seguendo, giusto? Perfetto. Il cosa l'ho deciso. Adesso mi serve il come, perché se non ho il come, il mio muro non lo farò superare alle persone, le persone non supereranno il muro e quindi non mi compreranno una cippa. E vedrò il mio competitor, che ha dei prodotti e servizi nettamente peggiori dei miei, che vende alla grande. E la cosa mi sta parecchio sulle palle. Giusto? Quindi, il traffico dov'è che lo giriamo? Il traffico viene girato qua. Il traffico è, magari utilizzate una campagna Facebook, magari utilizzate una campagna AdWords. Vi direi di partire con quello che c'è. Se avete un vostro database, ragazzi avete già metà del lavoro fatto, avete già una parte dei soldi risparmiati. Ieri quando Veronica ha detto, chi di voi ha un database che non sta sfruttando? Bam! La prima cosa che si fa è il funnel e sfruttarlo. Ok? Questa è la parte di traffico che va sul funnel. Ok? Ci siete? A questo punto, qui c'è un suo funnel, che possono essere di diversi tipi, che fa il suo lavoro. Chiamiamolo, chiamiamolo, chiamiamolo funnel 1. Chiamiamolo, lo chiamo funnel 1. Cioè, è un funnel che ha come obiettivo quello di vendere o creare lead generation o far scaricare qualche cosa. Insomma, ha una sua call to action, ha un suo richiamo all'azione. Ok? Quindi avete un primo funnel qua. Il traffico lo portate qua. Ci siete fin qui? Già se faccio questo, sono già avanti rispetto alla maggior parte dei competitor. L'abbiamo visto ieri con Golia, è partito Marco, Marco e Mario sono partiti così. Poi però, potrebbe succedere che le cose non vadano molto bene. Quindi, puoi lavorare di funnel, puoi lavorare di traffico, ma puoi lavorare anche di strategia. E qual è il piano B? Il piano B è quello di avere. Nel momento in cui tu proponi una tua offerta qua, puoi avere un sì, ma molto probabilmente avrai un no. E nella maggior parte dei casi sono molto più questi che questi. Ma vi sto parlando di 90 a 10, vi sto parlando di 99 a 1, vi sto parlando di 80 a 20. Quindi cosa facciamo? Abbiamo pagato dei soldi qua, ci fermiamo qui? E' errore. Qui è dove si fermano, non i funnel marketers. Ma voi adesso siete funnel marketers, ora le cose le dovete sapere. E quindi avete la responsabilità. Adesso potete scegliere perlomeno. E qual è il piano B? E' che nel momento in cui una persona esce da un funnel qua, tac 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 tac, lo facciamo rientrare dentro un funnel 2. Ci siete? E questo è il paracadute di salvataggio. Perché se io ti sono arrivato diretto e ti ho detto, vuoi il mio prodotto, il mio servizio? No. No? Non vuol dire no. Vuol dire non ora. Per mille motivi, perché non è il momento giusto, perché non è la tipologia, non mi prendi in questo momento, magari sono distratto, possono essere tante le cause. Però no vuol dire non ora. Però io qua ti ho pagato. Quindi io voglio sfruttare il traffico al massimo. Quindi una volta che ho il no, le persone che dicono sì, chiaramente potrò fare le offerte per farle crescere. Ma soprattutto devo lavorare sui no. Una cosa che dico spessissimo è che la vera crescita di un'azienda non passa dai sì, ma passa dai no. C'è Marco Sepertino in sala? Sì, l'ho visto. Allora, Marco ti ricordo, ci siamo sentiti ieri, Marco ha seguito le nostre campagne Facebook. Ti alti in piedi, voglio che ti facciano un bel applauso perché te lo meriti, perché gran parte degli annunci che avete visto sono merito suo. Sono merito suo. E lui dice no, ma io non ho fatto niente. No, no, hai fatto tante tante cose perché saper lavorare con Facebook non è facile. E cos'è che ti dissi Marco? Te l'hai sempre visto molto tranquillo, ti ricordi durante queste... Eri più in ansia tu che... E io ti dicevo Marco, non ti preoccupare, generami 100 lead al giorno e vedrai che la sala riempiamo. Ma sì, ma dopo abbiamo fatto un annuncio, abbiamo solo fatto pochissime vendite. Non ti preoccupare, lascia che i funnel lavorino per noi. Ti ricordi o no? Che ti mandai lo schema dei tre funnel. Non ti preoccupare. Guardate i risultati ragazzi. I funnel hanno lavorato per noi. Perché se no sarebbe stato solo un limone in bocca. Erano i funnel che dovevano lavorare. Cioè il funnel ha lavorato sui no. È questo il punto chiave. Ok? Ci siete fin qui? Ma non è finita la magia. La magia quando è? Io ho sempre parlato di branding. Perché secondo me è importantissimo il branding? Perché in questa fase qua, a mio avviso, una società che apre la partita IVA, un piccolo imprenditore, un grande imprenditore, una grande azienda, non me ne frega niente, deve avere uno schema del genere. Qua deve avere, indovenate cosa, un blog funnel. È un must, è un obbligo. Non puoi non avere una comunicazione come quella che si utilizza attualmente. Perché le persone, il sito statico, lo guardano non più del 15%, dicono le statistiche. Quindi è inutile che lo riempite di chissà quali contenuti. Anche perché la maggior parte delle web company lavora su template, ragazzi. Che poi a volte sono quelle web company che lavorano bene, che lo fanno carino. Ma sono tante web company che lo fanno veramente delle robe obrobriose. E quindi qua avete bisogno di un blog funnel. Indovinate un po', noi di funnel company non abbiamo un sito. Abbiamo un blog funnel. Che tra l'altro è fatto con click funnels, molto molto semplice. Però converte, quindi ce lo teniamo. E questo blog funnel che vi ho mostrato ieri Ale, come funziona? Funziona così. In pratica c'è una linea che per assurdo potrebbe essere infinita, nella quale su di essa il mio suggerimento è una volta a settimana postare un blog, un post del blog. che è un contenuto di valore, non è la newsletter, non è l'offerta, non è lo sconto della settimana. Ok? E dall'altra parte c'è la linea dei social, che ci dovrebbe essere più di una, che invece è più frequente, perché ha una comunicazione diversa. Quindi cosa succede? Succede questo, che nel momento in cui io, imprenditore, che ho investito mille euro in Facebook, ho ottenuto le mie lead del primo funnel, gli ho fatto la mia prima offerta per venire al funnel marketing live. Al funnel marketing live hanno deciso di non venire, perché per mille ragioni, quel weekend sono impegnato, non ho i soldi, non ho voglia, possono essere tanti i fattori, non ti ho preso con una comunicazione. Bam! Automaticamente era in un secondo funnel, che magari è un funnel video, magari è un webinar funnel, magari è un funnel kit funnel, sono tante le tipologie di comunicazioni. E qua cosa succede? Bam! Una parte di questi sì, una parte di questi no. Quale sarà la maggior parte delle persone secondo voi qua? Ancora no. Ed è normale. Però tutti i sì che ho preso qua, è già un aumento rispetto a quello che non avevo preso qua. Ma soprattutto cosa succede? Scatta quella che a mio avviso è la magia del blog funnel. Perché l'abbiamo chiamato blog funnel? Addirittura, dov'è Salvatore? Salvatore Cerino, nostro avvocato di fiducia, eccolo qua. Salvatore, per solito registrare i marchi, lui è il numero uno in Italia. L'abbiamo registrato blog funnel? Non ancora? L'abbiamo registrato? Ah, ok. E' proprio TM. L'abbiamo registrato come brand, perché nel momento in cui le persone non ci comprano niente qua, cascano indipendentemente durante la linea del tempo. Potrebbe essere in modo veloce, potrebbe essere tra un anno, sei mesi, un mese, dentro quello che è il funnel del blog. E il funnel del blog ti comunica in un modo ancora diverso, che non è magari l'offerta specifica, come poteva essere qua, che non è magari un webinar che provo a spiegartelo meglio, ma magari sono dei contenuti che tu hai postato che lo vanno a prendere e lo tengono legato nell'arco del tempo per far dirgli anche qui sì rispetto che no. Ci saranno sempre no? Certo che sì, ragazzi. È normale. È normale. Però in questo modo ho paracadute uno, il principale, paracadute due, il secondario, e ho un paracadute tre, che è ciò che mi crea un brand. Ci siete? Figata o no? Grazie. Grazie.